Ciao a tutti da Il Saludatore, eccomi qui con una grandissima Facciamo una sorpresa ai tuoi fans sul web? Faccio un grande saluto, buon pomeriggio, buonasera a tutti i fan di tutti Tu ci sai nel social? Io ci sono nel social Facebook e Youtube Come ti trovano? Oppure andate a vedere un bel video del mio spettacolo a teatro che si chiama Io sono Misia E' uno spettacolo che si tratta a questo momento E quando? La data è già decisa? A marzo al teatro india Ah, bellissimo Sare della radio, giusto? Che fa parte del teatro di Roma, ricordiamolo Ti ringrazio tantissimo, complimenti per tutti Grazie, ciao a tutti Saludatore, grandissimo